ciao a tutti oggi vediamo questa scatoletta che ci è appena arrivata si tratta di una scatola trasparente con coperchio e chiusura cerniera vi vedete come è fissato il coperchio è una plastica trasparente molto luminosa di alta qualità tutto made in italy può essere utile per contenere gioielli, componentistica, miniature di vario tipo è dotata di quattro vassoi come vedete ogni vassoio è composto da 36 parti 36 caselle può essere utilizzato senza i vassoi oppure con uno o più di loro in totale sono 144 caselline le dimensioni totali della scatola sono 14 cm x 18 cm e un'altezza di 5,1 cm sono facilmente impilabili e la chiusura è perfetta vediamo la parte dietro con le cernierine può avere molteplici utilizzi ecco qua la scatola completa la scatola senza i ripiani ogni ripiano e l'apertura cerniera grazie per l'attenzione trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com scatole, trasparenti, supporti e tanti altri accessori per le vostre collezioni arrivederci al prossimo video io vi aspetto su elettronica didattica ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti